San Roberto Bellarmino Nacque a Montepulciano, in Toscana, il 4 ottobre 1542, da Vincenzo, magistrato, e Cinzia Cervini, sorella di Papa Marcello II. A 15 anni entrò nel Collegio dei Gesuiti della sua città, chiedendo poi di entrare nella compagnia. Dopo aver insegnato nei collegi di Firenze e Mondovì, si trasferì a Lovanio come predicatore domenicale in latino presso l'università. Divenne professore di teologia al Collegio Romano e nel 1592 gli fu affidata la direzione dell'Ateneo. Nel 1597 Papa Clemente VIII lo scelse come suo teologo, esaminatore dei Vescovi e consultore del Santo Uffizio. Morì il 17 settembre 1621 e il suo corpo si venera nella chiesa di Sant'Ignazio di Roma e patrono dei catechisti.